Sì, sì, puntiamo, andiamo al custom, notte fonda, no, 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 dai, ma del coso rosso subito, dai, dai, andiamo dentro subito, ragazzi, dai, andiamo dentro, ok, potrebbe sforzare dentro alcuni, attenzione, sì, occhi dentro, occhi dentro, sì, sì, dai che faccio, no, non faccio gioco, perché, dai, chiare, qui sì, ok, vattene su, vattene su, vattene su, io mi metto dietro l'altra porta, scari, stanno spawnando, stanno spawnando, perché mi ha laggato tutto, scari, adesso la porta, dobbiamo entrare, a me, merce, vedo laggare merce, ma io sto fermo, e noi stavamo via, tre ore che ti abbiamo chiamato, ero, immerso, messo, sì, hai fatto una full immersion, oh, regà, che ride, 5 p e mezza di morte al boom, tu l'hai abbastato pieni di roba, al bunker, erano pieni di roba, allora sei tu il cittone che gira ogni tanto sulle masche, ecco perché ho visto il fono di bandare your pay, gli ha scritto bandare your pay che è un cheater, che palle, guarda se trovo un harddisk, oh, te ti muovi però, cazzo, eh, cazzo, stai calmo, ce l'ho io, ce l'ho io uno, trovato, l'hai trovato, me lo porti poi, quanto vuoi, no, secondo me, ho mai sentito, mi servono a te, cazzo, me l'hai detto a me, Luca, ok, stai coprendo, no, stai coprendo l'altra parte, ho sentito movimenti, comunque, vale, poi io me lo mostro, breccio, ancora la brecciata, la brecciata, ti ho sentito, eh sì, ho brecciata, no, sono sentito un cazzo, meglio, cazzo, le tattico, cazzo, è tattico, c'è le guffe mie, sì, è tattico mio, ecco, ecco, perché sono, sono nudo, non sappiamo, no, 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 ecco tutto il cazzo, dove sei? dietro, qua, dietro il contene, roba ce l'ho dietro, contene, ok, arrivo, non ti vedo, cazzo, 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 oh, ma ti giri, sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, io aspettato, faccio un cambio di soldi, finchia, comunque da qua su, copri di brutto, eh, e copri un attimo, che siamo qua, cazzo, copri, copri, eh, eù, da me la roba mia, è qui, cazzo, non la vedi? spegni la luce, che stai a me, ma tu non ci vedi, Gesù, ho sentito un rumore, sei tu? sono io sono io che sto coprendo e sei fermo cazzo e non posso devo guardare da due parti devi stare fermo cazzo madonna che mestruato guarda questo cazzo guarda si voglietti guarda il cazzo guarda c'è roba tua qualcuno che c'è altro c'è qualcosa per terra gli occhiali i cosi dai presi gli occhialini occhiali ho preso e non gli occhiali si cazzo si oh santi che bello che cuscia beh dai siamo pronti scendo giù allora si la casino ma non c'è oh oh qui davanti al ponte al ponte mi pare dove siete? sotto sotto c'è anche un bel silenziale andiamo? no 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 vado in davanti vado in davanti non rischia la vita che qui essi andiamo a porticinale intanto sotto senza controllo porticino vado libero mi è tutto vabbè no mi è tutto un cazzo non usciamo da porticina andiamo dritti di qua no no perchè stanno qui diciamo di porticina a sinistra e basso c'è un cecchino a destra del treno eh cecchino andiamo sotto andiamo sotto andiamo se sbiggiamo qua usci e abattagiamo andiamo ok al ponte ci vieno subito facendoci qui sto guardando io non vedo niente sul ponte andiamo ha fatto la mission dobbiamo andare a dormire di noi si dove fanno la missione dell'orologio zippo d'oro da 203 203 poi devo tornare anche indietro fermi ma non serve puoi anche fare la task dopo ci parla anche? in un altro momento andiamo ah si stanno al buco stanno vai 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 sono tutti a destra appunto montiamo su prendiamo il sesso e aspettiamo su stanco io no sei silenziato per music non sono silenzato ancora un pezzo a corsa a corsa chiusa la porta dove andiamo al secondo o al terzo questo è impossibile ma non lo dico a camperare terzo terzo apro e sono due scoppia 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 mi ha fatto la gamma ma non fa f*** via via fammi passare a me li ha ammazzati tutti a due non lo so non lo so che p***a sta arrivando eh sta arrivando gente ragazzi siamo mettem behind muci che superstito morto è morto è morto era un player raga le rubino mi hanno fatto una galvan un maggior nessuno che ha fatto lo stuv razziloni no coprite la porta che c'era un player qui devo vedere se ce ne sono degli altri sto curando posso mancazza copro da cui è possibile altro player quindi occhio copre il corridoio che devo curare fatto una gamba ok mi sono riparte tu e se vieni qua prenditi il casco di questo vado io vado io avanti vatti prendere il caschetto mi sto curando ancora ragazzi aspettate un secondo c'è un cazzo questo c'è il caschetto ok tutto curato ricarico ma questo che è morto qui è un scavo o un player? è un player due player ma scusa fermi un attimo dov'è il secondo cadavere? qui dove sono io lo stavo guardando dietro di me sento sento passi eh dove? è qui dentro cioè fuori nel perimetro fuori? ah perimetro? adesso avvio ecco lo sei questo viene su eh? si si ok ragazzi è morto è morto è morto è morto un altro? scavo o cosa? scavo stai bravo non lo so scavo 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 il dito è un altro passo eh non so se era lui che cadeva pericolo prima una roba di questo faccio il caschetto un rambo io devo scavare qua questo qua qui qui e ne vedi ok non vediamo zanni qui raga fate meno casino per favore questo non l'ho proprio sentito eh è solo di quello, è vero ho trovato la finestra fuori dalla cadarra devo ricaricare ricaricare? ho trovato la finestra fuori voglio ripiazzare libero, non c'è più in su apro la porta ho trovato l'apertura per entrare siamo in sicurezza, non c'è più in suono no l'ho visto te si va lontano, è una macchina russa questa mi rimuove andiamo al terzo dai, io occupo il corridoio forza, andate avanti infatti che gracchi gracchio? adesso? no ok, vai 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 guarda dietro abbiamo controllato questo qua che c'era via aspetta un altro chi è che ha attorto l'arma qui su? io, c'è un pep c'è la paga nera, vuoi? no c'è altro scudback vai la madre oscar ne viste io qua io ce l'ho, io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho ammazzato dietro la porta quello io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho merce saliamo su dai non c'è non c'è non ci credi perchè sto coprendo aspetta, copri dietro eh, mi passa davanti cazzo il caschetto te lo sei preso si 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 mi fa il vita dai non vuoi niente allora vai vado su lascia sta qui di... aspetta che mi serve una granata non ce l'hanno il terzo è libero adesso adesso sto sul campo sto venendo su io ce l'ho c'è ragà dove era 303? non lo so dietro... salta Vars... chi copre le scale? com'è tu? aspetta che io mi vado a aprire la marquette no no la marquette già ce l'ho io bastardo che c***o è aperta già la marquette già aperta la marquette ti ho detto allora sarà stato quello lì si che la nascerà un dvd no copro io le scale è sotto è sotto no sopra 303 no no è sotto i tuoi stanno tutti sopra i due sono su allora la 203 che ti serve no la 303 e no quale devi fare lo zippo è sotto lo zippo è sotto è sotto è sì 203 allora a 203 che c***o preso a 303 controlla no controlla il tasco vai il tasco che controlla no forse è qua è qua è qua è qua vieni qua vieni qua è qui è qui è qui è qui è qui ok ragazzi qui dentro si è aperta ha fatto anche lui la missione scuola di quanto stanno qua dentro scusate il tarto tutto il c***o sono buati qui anche lo sono fermati a c***o per c***o in colpa tua. ah è vero meglio l'abbiamo beccati con le mani nel sacco c***o ma se la parte copre le scale vai esci sì io sto coprendo una sto guardando se c'è qualcosa qua dentro che fai questo rumore ci andiamo va bene andiamo nell'altro un attimo che apro due o tre porte non ho l'asso io però sto con la zappa su vabbè io ce l'ho ai penkiller eh volendo poi apro la porta coi medicinali esatto fei vabbè ecco vabbè non prego io ci vediamo domani raga ciao 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 di pasterno vanno un penkiller e vanno corriendo dentro si aspetta un attimo che controlliamo cosa prende? vai si si vai occhio alle finestre ragazzi eh c'è uno della macchina russa che è stato non c'è che cazzo c'era? oh ma qui c'è un morto si l'ho fatto io oh è la sua arrivo guardami un secondo che vi ho rubato su sto correndo fuori arrivo si vedo arrivo 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 chiuso la porta apro questa porta qui bellissima io sto sopra eh faccio il cassetto c'è un cazzo qua eh è questa porta è questa chiave qua si è bellissima eh questa introvabile cazzo ragazzi ragazzi si ma sono lontani eh non lo so non pensi che non ho il vendinaro ho vendinaro o cerco in Italia sento qua vicino lo che urlano sono qui a bus station ehm cosa ti serve te? a me? eh ma niente dà di cure niente? no no perchè apro due o tre porte qua che hanno dentro medicinali eh anche mi sono scappi vicino ragazzi eh io sto coprendo la porta ingresso occhio alle scale ragazzi sta qua dentro ed è entrato sta qua sotto no sono io qui no no sta qui sta qua sotto davanti la porta no sta qui sta qui la porta questa qui a secondo piano l'ho sentito qui ah a primo piano scusa sta andando sotto sta entrando eh ci sono a piano terra entra sotto ho entrato sotto a giro a giro quello d'ombra adesso è andato ha girato non ha girato l'angolo il gioco no sta andando verso il bus libero no mi è rimasto bugato eh oh mi è rimasto bugato eh senti io sono sulla missione cosa che missioni ha detto? eh l'ho preso lo zippo d'oro ora devo andare a mettere ma iiii i Gastonarizer non ti servono? no 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 ci vado un'altra volta ma non ti servono? di cosa? i Gastonarizer si si mi servono ma intanto non le voglio fare le missioni dell'altra pista vabbè ho aperto una porta con dentro un painkiller e le cure gialle solo questo c'era? no c'era anche un po' di roba altra ma non c'era niente di cure ti serve qualcosa merci? ti avevo già chiesto? io c'ho 2-3 painkiller ancora quindi sta abbastanza bene ok comunque posso aprire ma comunque posso aprire anche la porta dei medicina ho sentito una porta aprirsi? siete voi? sopra si ho aperto la porta io sento camminare sento camminare come io sotto piano terra non camminare il porto mi metto a coprire qua quando avete finito... sento camminare ancora c'è uno scavo fuori si c'è uno scavo fuori eh attenzione quando usciamo c'è da combattere lo stesso è sulla destra viene scelta la porta poi viene sul primo piano quello da destra mentre lo viene sotto guardando l'altro dormitorio è sulla sinistra no si adesso è sulla sinistra oh eccolo eccolo sta entrando sta entrando nel dormitorio appena lo vedo lo scoppio non lo so se l'ho fatto non lo so ho provato a sparare attraverso no cammina ancora cammina ancora sono fuori no ma ne ho fatto uno nell'altro dormitorio credo eh aspetta che ricarico si ce n'è una macchina rossa ti vedo aspetta che una volta che mi affaccio e mi rompe un cazzo aspetta apro qua chi è? è lui è lui che spara oh qua davanti vieni via vieni via oh ma muore o no? no no è morto non ti preoccupare io ho fatto lo scab di fronte ho fatto io ho fatto questo hai preso due o tre volte questo? no no non mi ha fatto niente ah si? niente entrano movimento movimento dove? dove? eh senti i passi dietro fuori io che stavo entrando ok adesso vabbè arriviamoci di qua raga aspetta aspetta non lo scelgo vieni via ora vieni via aspetta capo hai fatto le cazze di due e ora vieni via dai si è aperto questa cazza di qua io io chiudimela chiudimela lascio la rossa aperta non posso dire cazzo la pasta tutto questo doppio lo scelgo questo lo scelgo è con ma è ecco lì cazze sei questo è ma passano i proiettili da lì sky? no i bp sì però i bp ce li ho questi bp passano la rete e quelli dell m4 passano la rete scendo posso? vieni 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 dai c'è un panchino appena uscivo nooo ho sbagliato tasto ho sbagliato tasto ma se vuole lusso sei sbagliato i fucci hai visto? è uno bear caro il più forte vai 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 ora mi giro ti sparo madonna cos'hai trovato eh cos'hai trovato? aspetta tieni 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 qua no vieni qua sky a chi a sky a te a tutte e due a te e questo cos'è cosa hai portato? cos'è? uh grande a sky è questo sky via sky via come faccio adesso? butto via questa ecco vado un attimo no vado avanti a voi sono molto freddo vai 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 cammina un attimo che devo mettere ok vai non ce l'ho cazzo come non ce l'hai? vieni con me vieni vieni non ce l'ho messo in cinta prendo questa vado di fort armor fort armor? no no magari mi sembrava vado avanti io o chi va avanti? davanti io no no ma sei nero dove vai avanti dai fermati sky o io dai dove andiamo però? eh stazione benzina faccio telegine ce l'abbiamo no? ma andiamo fino al checkpoint dai ma che cazzo vabbè oh cammina però cazzo e devo correre? eh si eh gente di qua cammina cammina allora ponte mi sembra libero ma siamo guido un attimo io qua понятно? vai 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 apre si vai vai aspetta che guardo indietro un attimo non mi sembra di vedere niente seguite aspetta che guardo indietro un attimo non mi sembra di vedere niente seguita seguite io mi sarei fermato un attimo alla stazione devo aprire devo trovare le morfine la vabbè poi ci torna da sotto adesso ci torniamo dopo c'è uno scav davanti di fronte a noi che punto destra più a destra dietro i muri di cemento però adesso sta andando verso sinistra verso il camion non lo vedo lo vedo uno atti ce ne sono due allora uno morto ecco non lo stavo è morto bravo non lo vedevo più dietro l'albero ricarico non lo vedo eh ricarico lascio il muro ok sono dietro di te ti passa a sinistra va davanti tutti morti qua non siamo qua aspetta no no apro check point un attimo io eh ah ok un attimo cosa abbiamo questi si quasi un botto di morti qua oh non trovo mai una fort armor ma è possibile guarda guarda cosa c'è qua cazzo una cappina di merda carmi c'era questo per una secondaria vado a fugire questo ma ci sono granate qui dentro se le volete tre verdi tre rigidi come cazzo vedi lo vuoi? lo vuoi? lo hai porto? no 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 c'è anche un saiga lì sotto eh tanto cammina qua sopra ragazzi eh c'è il cecchino ancora attivo sì sì è possibile si bagga lì dietro però vorrei capire perché non ci possiamo andare lì sopra cazzo eh perché ce l'hanno vittima esco beh c'è uno star sei nascosto controllo qua dentro sembra niente usciiamo? o non mi carichi un altro conchino? vedi va dentro niente sono abbastanza carico io io anche carichissimo esco esco guardavo se trovavo magari un painkiller la porta di fatto che chiude la fa un controllo credo poco ma andiamo vabbè ma dire mai sono io e che fu io lasci tua guarda viene a vedere viene a vedere qua sopra ora che cazzo c'è e nemmeno io ci ho visto andare uno oggi e l'ho ammazzato e allora cazzo però una di munizioni perché ho detto ma che cazzo ci va a fare questo qui lì dentro e allora ho visto che ora vado su anche qua a vedere se c'è oh poveri vieni qua luce teni da te no qua non c'è qua non c'è un cazzo solo di lì c'è ma pensi non c'è qua davanti eh non c'è qua dopo il salto no qua dai dai andate va bene va davanti va bene va davanti non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è ma vuoi morire non vuoi morire non vuoi morire mi piace il brimido ma ti è ammazzato vedi ti fa sesso bella run ah una bella meglio beh non abbiamo ammazzato granché eh però ci hanno ammazzato tutti e davanti 6.007 anch'io ho fatto. Il player era 11.30 al player. Anche te? Il mio era Bears.